allora volevo iniziare con un appunto che ho letto ieri una cosa molto carina molto interessante che ci aiuterà a capire un pochino meglio dove come introduzione a quello che vogliamo dire allora ieri abbiamo letto e la cosa bella è che noi stiamo vivendo con Avraham Avinu sappiamo quello che l'autore d'Italia ha insegnato ai suoi allievi che dobbiamo vivere con il tempo vivere con il tempo significa vivere con la parasha della settimana abbiamo avuto delle parasha intense la prima parasha era quella di Bereshit poi abbiamo avuto Noach, Lech Lecha e siamo arrivati a Vajera si dice così, si dice che la parasha di Bereshit è una parasha che inizia bene però finisce male inizia bene nel senso che Hashem decide di creare il mondo quindi noi esistiamo però finisce male perché l'uomo aveva ricevuto troppo e quando l'uomo riceve troppo si annoia e quando si annoia è l'inizio di tutti i malori e quindi finisce che Hashem dice il Pasuk dice che Dio ha visto che era esagerata la misura del male nel mondo e tutto quello che l'uomo vuole o l'uomo pensa è solo male tutto il giorno e quindi Hashem decide di distruggere il mondo quindi la parasha di Bereshit inizia bene e finisce male la parasha di Noach chiaramente inizia male con il diluvio però finisce bene che nasce Avraham Avino e qui noi siamo arrivati oggi la parasha all'inizio di Parasha di Chaisara siamo alla terza parasha che viviamo insieme con Avraham Avino la differenza che c'è tra le parasha precedenti e la nascita di Avraham Avino che nella parasha di Avraham Avino succedono tante cose ma perché non si dice bene, male, inizia bene, finisce male ci sono tante cose anche pesanti come le città di Sodoma e Gomorra che vengono completamente cancellate dalla faccia della terra quindi che cosa sono diverse le parasha di Avraham Avino in che modo sono diverse le parasha precedenti di Bereshit e Noach la risposta è che quando si vive con Avraham Avino qualsiasi cosa succede, succede bene qualsiasi cosa succede è una cosa positiva Avraham Avino è una persona che ci accompagna in queste parasha non è una persona qualsiasi non è altro che il nostro inizio il capo di tutta quanta la nostra storia tutto inizia con Avraham Avino e dove c'era Avraham Avino c'era la presenza di Hashem e siccome c'è la presenza di Hashem siamo automaticamente delle persone felici quindi queste parasha sono per forza di cose parasha felici quindi quando abbiamo detto che la fine di parasha Noach la parasha di Noach inizia male ma finisce bene finisce bene e continua bene perché viviamo con Avraham e poi abbiamo vissuto in questa settimana la nascita di Yitzchak e questo ha portato gioia Yitzchak si chiama così perché Seho Kasali Elohim che Dio ci ha portato gioia in casa e quindi dove c'è Hashem c'è gioia c'è però un dettaglio all'inizio della parasha di Vayera che sono tantissimi anni che ho cercato di capire e non sono mai realmente riuscito a capire è un dettaglio molto particolare che Rashi sottolinea che ho sempre letto e ho accettato come una delle stranezze di questo mondo che cosa racconta Rashi che quando sono arrivati questi tre angeli che erano camuffati in tre viandanti in tre commercianti Avraham Avino la prima cosa che gli chiede è lavatevi i piedi prima di entrare in casa ora c'è tutta la storia che è vero che Hashem era in casa da Avraham Avino perché è venuto a visitarlo perché era il terzo giorno della Milà era molto malato quindi Avraham Avino riceve la presenza di Hashem in casa ma è in continua ricerca di un ospite di qualcuno a cui dare perché Avraham Avino era proprio il simbolo del Dato la prima cosa che dice a questi tre ospiti lavatevi i piedi Rashi dice una cosa strana che non ho mai capito in vita mia Rashi dice che perché Avraham Avino chiede per prima cosa di lavare i piedi perché c'era un tipo di idolatria che era quella di servire la polvere che si accumulava sui piedi voi l'avete capita questo io so che qualsiasi idolatria è strana non sei l'unico a non averla capita ma l'hai già sentita questa? sì 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 ma mi sono anche soffermato non perché io sia chissà che cosa ma mi ha incuriosito perché non c'era nessuna spiegazione esatto io ho trovato ieri una spiegazione interessante che è legata con l'Italia che vorrei introdurre che cosa qual è la spiegazione di questa cosa? intanto noi sappiamo che qualsiasi idolatria è strana come dice il profeta colui che dice al pezzo di legno tu sei mio padre e alla pietra tu mi hai creato più strano di così si svegliavano una mattina prendevano un sasso scolpivano dentro questa pietra una forma di loro immaginazione e poi si inchinavano e dicevano tu sei quello che mi ha creato vogliamo dire che non è strano quello? è stranissimo ma ok è una follia ma è una follia collettiva ma la polvere che si accumula ai piedi sopra i piedi questa non l'avevo mai capito e Avramavino insista Avramavino ci tiene voi a casa mia non entrate con la polvere che avete sui piedi infatti nella stessa parasha più avanti c'è una storia che si ripete con due di questi angeli che vanno da Lot e dicono Lot dice a loro riposate e poi lavatevi i piedi ma era per un altro motivo ma normalmente non è la prima cosa che si chiede a qualcuno che entra in casa tua lavati dali prima da bere fallo sedere fallo riposare poi gli dai tutto quello che ha bisogno per Avramavino era una condizione se no non entrate in campo la spiegazione che ho letto è che era un giorno molto particolare perché era un giorno particolare? perché in quel giorno lì Hashem ha tolto il tappo del sole così è scritto noi sappiamo che chi studia la Kabbalah sa che c'è il nome Yud Ke Vav Kei e poi c'è il nome Elohim e uno sta per la luce la forza l'energia e l'altro sta per il limite infatti dice il Pasuk Kishemesh Umagen Hashem Elohim che il sole e il suo coperchio sono il nome di Hashem e il nome di Elohim il nome di Hashem è un nome che è talmente forte che non potrebbe influenzare nessuno perché nessuno può stare davanti a un'influenza così forte che cosa ha fatto Hashem? Hashem si impegna a distribuire in modo molto misurato la sua energia e questo si chiama Elohim infatti tutta la creazione è disegnata con il nome Elohim Bereshit Barah Elohim Vayomer Elohim Vayar Elohim Vayavdel Elohim Vayivra Elohim tutto è scritto con il nome di Elohim perché? perché Elohim vuol dire la misura altrimenti noi non saremmo così quindi abbiamo il Shemesh e abbiamo il suo Maghen abbiamo il suo il suo coperchio la sua protezione quel giorno Hashem ha fatto questa cosa che ha tolto il coperchio del sole c'è scritto che anche quando arriverà Mashiach la Kadosh Baruch Hu farà la stessa cosa toglierà il coperchio del sole e i Tzadikim che durante tutta la loro vita e anche i Tzadikim delle generazioni precedenti che si alzeranno con la risurrezione dei morti che tutta la loro vita hanno servito Hashem con devozione potranno finalmente godere della luce di Hashem come avevo spiegato qualche mese fa che il Gan Eden è solo un anticipo è solo un piccolissimo anticipazione a quello che sarà i tempi di Mashiach dei tempi di Mashiach e quindi ci sarà Hashem tollerà il tappo dal sole vuol dire dal suo nome vuol dire dalla sua energia e i Tzadikim potranno finalmente godere del loro impegno del loro servizio ma c'è un problema che i Chachamim continuano e dicono mentre i malvagi invece saranno puniti saranno colpiti da questa energia quindi è come un gioco di parole di parole Tzadikim Nizonimba e Reshaim Nidonimba Nizonim e Nidonim Nizonim vuol dire vengono alimentati Nidonim vuol dire vengono giudicati significa che per poter godere di questa luce che ci sarà quando arriverà Mashiach dobbiamo prepararci qual è la nostra preparazione? Lo studio della Torah e le Mitzvot che sono come delle protezioni delle tute da navicella spaziale sono come delle capsule che ci aiutano a andare sempre più in alto questo è quello che è successo quando Hashem è venuto a visitare Avram Avino Hashem ha tolto il coperchio dal sole perché l'ha fatto? perché era un giorno in cui Avram Avino non stava bene ha detto oggi non voglio disturbarlo con dei ospiti con delle persone che viaggiano con dei viandanti ma Avram Avino era sempre sul chi va là cercava comunque con gli angoli degli occhi per vedere se c'era qualcuno che passava a un certo punto passano questi tre Avram Avino dice che bello posso fare la Mitzvah di Akhna Satorchim dell'ospitalità però a condizione che vi lavate i piedi che cosa vuol dire? vuol dire che questa gente non doveva essere fuori casa quel giorno mi faceva troppo caldo perché sono usciti Avram Avino chiaramente non sapeva che fossero degli angeli Avram Avino per lui erano dei commercianti che viaggiavano per affari Avram Avino dice la vostra voglia di guadagnare soldi è più forte della vostra voglia di essere in salute perché viaggiare con questo caldo era pericoloso per la salute quindi voi non credete in Dio che è lui che dà il sostentamento che cos'è che per voi è il Dio del sostentamento sono i vostri viaggi e quando una persona viaggia ai tempi si viaggiava a piedi nudi si accumulava la polvere sui piedi Avram Avino dice a queste persone voi siete schiavi di un idolo che si chiama la polvere dei vostri piedi che siete convinti che è quello che vi porterà il vostro sostentamento quindi lavatevi i piedi se volete entrare a casa mia perché perché a casa mia c'è Hashem in quel momento particolare c'era la rivelazione di Hashem che è venuto a visitarlo infatti la Torah inizia con le parole che Hashem si è rivelato ad Avraham il terzo giorno dopo la Milà perché il terzo giorno è il giorno più difficile da attraversare e quindi succede che Hashem è venuto a dargli il conforto ma anche se non fosse un momento così Hashem si trova sempre intorno a me e se volete venire nella casa di Hashem dovete liberarvi della vostra idolatria questo è il motivo per il quale Avraham Avino ha insistito tanto perché si lavassero i piedi ma non in senso fisico in senso molto più profondo in un senso che lui insegnava loro la fede in Hashem cosa viaggiate in un giorno così difficile in un giorno così con un meteo così impossibile da gestire rimanevate a casa se siete usciti vuol dire che siete convinti che se non andate a lavorare in queste condizioni allora non avrete di che mangiare allora voi avete un problema che dobbiamo risolvere prima di farvi entrare in casa mia spero vi sia piaciuta questa spiegazione adesso introduco l'argomento dimmi Silvano ho visto che hai tolto il microfono volevo solo dire che lui in quei giorni lì aveva anche fatto il brit per cui era particolarmente stanco e Hashem ha fatto tutto questo per non affaticare giusto e comunque e comunque c'era gente che era troppo presa dal guadagno e quindi anche in giorni così voleva per forza andare a guadagnarsi il pane ora perché vi dico tutto questo perché abbiamo studiato nel Tania che la tristezza la malinconia arriva dal fatto che una persona è convinta che gli manca qualcosa fisicamente fisicamente vuol dire qualche piacere di questo mondo e siccome non ne veniamo mai fuori come dicono i nostri saggi nessuno lascia questo mondo senza aver appagato scusate nessuno lascia questo mondo appagando metà di quello che vorrebbe appagare quindi non riusciamo mai a raggiungere l'obiettivo dei nostri piaceri in questo mondo abbiamo sempre bisogno di più infatti la Hasidut spiega il fatto che un piacere continuo un piacere costante non è più un piacere quando una persona fuma la prima sigaretta metti che gli fa piacere ma dopo qualche mese non fuma una sigaretta devi fumare un pacchetto perché perché il piacere che avevi qualche mese fa qualche giorno fa non è oggi quello stesso piacere non ti appaga più e così con tutte le altre droghe dichiarate droghe e non dichiarate droghe anche con i soldi anche con tutto il resto tutto questo tutto quello che c'è in questo mondo ci appaga una volta ma poi non ci appaga più come dicono i khakamim chi ha 100 vuole 200 chi ha 200 non gli bastano 200 o 300 se hai 200 vuoi 400 e così via perché altrimenti non ti senti appagato anche se guadagni tanti soldi non ti senti appagato sentiamo sempre le notizie di questi miliardari del mondo che comprano e ricomprano e ricomprano hanno così tanti soldi perché non te ne stai tranquillo perché è come se non hanno niente hanno delle cifre con così tanti zeri ma devono comprare twitter devono comprare non so perché perché altrimenti sono poveri altrimenti non hanno niente come si arriva a questo? è una natura di questo mondo dalla quale noi ci dobbiamo liberare è per questo che l'autore del Tania ci ha dedicato tanto del suo tempo per scrivere questo libro per aiutarci a raggiungere la felicità la felicità la si raggiunge liberandoci da questa necessità di appagare la nostra vita materiale la nostra vita così futile che non ci porta mai da nessuna parte purtroppo oggi devo leggervi il Tania dal testo quindi è arrivato dopo tanti mesi questo giorno e quindi leggeremo un pochino di Tania dal testo ma vi garantisco che è una cosa bella piacevole ok bene credo che abbiate il testo siamo alla riga 20 ci siete? ci siete? sì sì ok io devo spostare le telecamere se no non leggo il testo che cosa dice qui l'autore del Tania fino alla riga 20 dice che abbiamo fatto un esame totale dei motivi per il quale noi non siamo felici per il quale noi siamo malinconici il motivo principale è che non abbiamo ballato abbastanza a Simchat Torah questa è la medicina per la felicità tutto l'anno ma non non purtroppo non siamo molto preparati per essere così felici a Simchat Torah vi racconto questa cosa così perché mi è venuta in mente in questo momento quando il Rebbe nel 41 nel 41 nel 40 è arrivato sì a giugno del 40 è arrivato negli Stati Uniti era era abitava nella stessa casa dove abitava al primo piano suo suocero il Betacneset era a pian terreno e il Rebbe con sommeli avevano una stanza che poi è diventata la stanza famosa dove Rebbe studiava e viveva e riceveva e ha ricevuto migliaia di persone in questo suo studio arrivata la notte di Simchat Torah quando in tempio hanno finito di ballare il Rebbe non ha detto c'è un orario per ballare il Rebbe ha continuato a ballare da solo con il Sepertorah in mano tutta la notte a un certo punto è sceso dal primo piano l'assistente del suo suocero il Rebbe precedente e gli ha detto che il suo suocero ha chiesto di qualche modo di evitare di fare rumore perché non riesce a dormire e già qui è una cosa che non capiamo e non potremo capire perché perché Rebbe sta facendo una Mitzvah così grande che quella di come fai a dirgli smettila perché devo dormire è una cosa che non si può capire la spiegazione che si può dare è che il sonno di un Tzadik può essere più importante di una Mitzvah e ho anche le prove di quello ma non vuole dilungarmi troppo cosa ha fatto il Rebbe ha tolto le scarpe e ha cantato a bassa voce quindi con il Sefer Torah scalzo a bassa voce ha continuato a ballare fino al mattino ecco il Tzadikim riescono a fare queste cose noi siamo lì a guardare l'orologio quanti giri mancano quante canzoni abbiamo già letto possiamo andare a casa dai che c'è da fare kiddush dai che vogliamo andare a dormire non è questo Simchat Torah la medicina contro qualsiasi malinconia è di essere felici a Sukkot ma specialmente a Simchat Torah chi non ha riempito tutte le sue vene con il sangue della gioia non ha fatto girare la gioia in tutte le sue in tutte le sue vene in tutte le sue cellule a Simchat Torah durante l'anno potrebbe incontrare qualche momento difficile qualche momento di malinconia di difficoltà cerchiamo di risolverlo allora quindi cerchiamo di prendere una medicina cosa ci ha detto l'autore del Tania ci ha fatto un esame totale ha detto tu sei uno che ti consideri migliore degli altri non ve rifaccio tutto quello che ho già ripetuto tante volte comunque siamo arrivati al capitolo a metà del capitolo 31 e l'ultima cosa che ha detto arrabbiati contro il tuo Yetzirah quando capisci che il tuo Yetzirah è la fonte di tutta la tua tristezza digli smettila io di natura sono una persona felice adesso leggiamo queste parole allora dopo che ti sei arrabbiato con il Yetzirah rigaventi l'uomo potrà rallegrarsi veramente in che modo rallegrarsi veramente non è una cosa in più è una cosa tu torni a essere quello che tu sei veramente potrai liberarti dai motivi che ti hanno soffocato la tua genuina e reale gioia che hai sempre avuto di natura come i bambini che sono felici perché sono felici perché Yetzirah è ancora debole con i bambini e quindi non hanno motivo per non essere felici a meno che non li prendi un giocattolo se tu li prendi un giocattolo diventano feroci perché perché loro mettono tutta la loro vita in un giocattolo anche quello è Yetzirah non hanno ancora capito il valore del giocattolo contro il valore della felicità e così come da piccoli ci siamo arrabbiati per un giocattolo da grandi ci arrabbiamo per altri tipi di giocattoli per qualcosa che ci manca per dei soldi che non ho guadagnato per la macchina più bella che non sono riuscito a comprare per la villa sul mare che ancora non ho per l'aero privato che ancora non ho che non ho scelto ancora perché sono indeciso sui modelli quindi non sono molto molto libero e il giorno che avrò comprato l'aereo privato non sarò felice perché ci sarà qualcos'altro da comprare tutti questi sono motivi che ci tolgono giorno per giorno la nostra felicità e questa è la prova che non camminiamo con gli stessi passi che ha camminato Abraham perché Abraham ha camminato con Hashem e dove c'è Hashem c'è gioia e lui era sempre felice quindi in queste parashioti noi siamo facilitati siamo agevolati a essere felici perché viviamo insieme con Abraham Avino che era sempre accompagnato da Abraham 21 riflettendo a queste cose nel suo cuore quali cose due capitoli e mezzo di riflessioni capitolo 29 30 e metà del 31 e traendo un doppio conforto dalle parole sincere ora dette quando noi riflettiamo seriamente sul fatto che dobbiamo smettere di considerarci superiori agli altri perché non siamo perfetti ha esaminato vi ricordate abbiamo parlato forse un anno fa addirittura dei sogni quando una persona si sveglia al mattino e sogna una certa cosa e l'autore del taglio dice tu sogni quello perché tu sei quello se eri un saddick sognavi angeli sognavi anime sognavi rivelazioni come Avram Avino un bambino di 4 anni che è andato da suo papà a piangere quando è tornato da scuola e le ha detto tuo papà perché piangi dice perché Hashem si è rivelato ad Avram e a me non si è rivelato perché a lui si è a meno ecco uno così ha dei sogni belli sogna di vedere la rivelazione di Hashem e lui li ha avuti il quinto Rebbe di Hamad e il papà gli ha risposto quando un ebreo a 99 anni decide di fare la Milà merita che Hashem si rivela a lui in altre parole dice Avram Avino ha fatto degli sforzi per poter ottenere quello che ha ottenuto sedersi a piangere non serve a niente fai anche tu i tuoi sforzi e vedrai che riceverai quello che Avram Avino ha ricevuto questa è stata la risposta del padre al figlio ma è una cosa reale io non sogno angeli non sogno anime non sogno rivelazioni divine perché non sono lì perché non sono io purtroppo quando io mi sveglio la mattina e sogno quello che sogno dico ah quello sono io quindi ho poco di che rallegrarmi e quindi questo mi porta a essere un pochino malinconico ma il motivo perché non sono così quindi alla fine di tutto il problema è sempre lui arrabbiati con lui e vedrai che smetterà di darti fastidio e verrà fuori tutta questa gioia leggiamo 23 egli dirà infatti a se stesso ognuno di noi deve dire a se stesso vi ricordate l'ultima lezione vi ho raccontato questa storia di questo giovane rabbino di Baltimore che ha telefonato al Rebbe in modo anonimo per dirgli che aveva problemi di fede e il Rebbe gli ha detto di parlare con se stesso spero vi ricordiate la storia era un po' più lunga ma c'è proprio questa cosa che dobbiamo fare tutti i giorni parlare con noi stessi ecco parlare da soli è un problema ma parlare a noi stessi vuol dire mettere noi stessi in discussione che cosa dobbiamo dire a noi stessi veramente e senza alcun dubbio io sono assai lontano da Hashem voglio garantire che quando leggo il testo originale è una poesia in confronto all'italiano però è stato tradotto in modo ineccepibile ma comunque perde moltissimo del suo colore del suo calore e della genuinità comunque dobbiamo leggere in italiano veramente senza alcun dubbio io sono assai lontano da Hashem e addirittura l'autore del Tania usa dei termini che non userebbe mai se non perché sono scritti nei testi dei nostri saggi nel Talmud nella Mishnah noi ad esempio nella Amidah diciamo di Hashem che il Dio grande temuto grande Adol Aghibor forte e temuto ma i Fakhamim ci hanno detto che non possiamo dare titoli ad Hashem perché nella Amidah diciamo Hashem sei grande qualsiasi titolo noi diciamo lo minimizziamo quando uno è infinito non puoi dire sei grande lo stai trasformando da infinito a grande e grande è minimizzare infinito quindi grande è forte è temuto lui è quello che ha creato la forza cosa dici di lui che è forte cosa succede succede che Chakhamim hanno messo queste parole e hanno detto perché queste parole sono scritte nella Torah quindi siccome sono scritte nella Torah io lo posso mettere non posso dare titoli ad Hashem ma se la Torah lo scrive è scritto in circostanza particolare dove Moshe Rabbein voleva farci riflettere non guarda in faccia nessuno se vogliamo dire in termini molto semplici e non prende nessun tipo di di regali di doni non non agevola nessuno ognuno in base al suo sforzo quindi prima di dire oggi faccio un peccatuccio e domani dot soldi in sedaka rifletti che Hashem è grande è forte ed è temuto non puoi pagarlo per fare i tuoi i tuoi comodi non funziona così con Hashem non guarda in faccia nessuno non importa chi sei non importa quanti soldi hai c'era il re che ha portato mille sacrifici al Bet Amigdash una volta e alla fine della giornata c'era un cacciatore che aveva che era riuscito a cacciare due volatili e uno l'ha portato al Bet Amigdash credo scusa quattro e due li ha portati al Bet Amigdash e il Kohen Gadol di notte ha sognato che Hashem gli dice vai a dire al re che quei due quelle due colombe che ha portato per me erano molto più appaganti e piacevoli dei mille tori che ha portato il re perché il re l'ha fatto ma per il re non c'era emozione devozione non c'era questo trasporto sì il re poteva portarne mille duemila non era un problema ma questa persona questo cacciatore lui digiunava fin tanto che non portava al Bet Amigdash prima quello che per lui era giusto fare prima Hashem e poi io e questo voleva dire Moshe Rabbenu quando dice questo dio grande forte e temuto che non guarda in faccia puoi essere il re ma per me un piccolo cacciatore che ha se non caccia quel giorno non mangia per me lui può essere più importante quindi noi diciamo nella Midah a Gadol Agibor anche in questo caso quando l'autore del Tania dice in ebraico ve lo leggo sono termini che Chachamim hanno dato ma se io faccio diventare lo Yetzarara padrone a casa mia io sono Yetzarara e quindi io posso dire di me stesso abominevole e ripugnante perché davanti a Hashem sono abominevole e ripugnante non io io Yetzarara che ho portato in casa mia e che ho fatto diventare padroni di casa perché io sono quello che voglio essere ho letto di una cosa veloce ho letto che una persona così come si dice che una persona è quello che mangia anche psicologicamente anche intellettualmente una persona è quello che mangia nel senso che se io tutto il giorno leggo la cronaca nera per forza che divento una persona depressa se tutto il giorno vedo il male degli altri per forza che divento una persona asociale se io invece vedo solo la positività sento solo i profumi di questo mondo la luce che c'è in questo mondo riesco a trovare il sorriso in ogni cosa nelle persone in tutto quello che mi circonda io divento una persona positiva una persona felice quindi così come materialmente io sono quello che mangio anche intellettualmente io sono quello che mangio io decido cosa essere io decido chi essere questo è quello che si chiama libero arbitrio di decidere chi essere quindi se io mi trovo nella situazione in cui sono malinconico e triste è perché io sono abominevole e ripugnante perché gli esserarà che è abominevole e ripugnante è padrone a casa mia bene rega 25 e tuttavia ciò riguarda solo me stesso ecco qui c'è la distinzione netta di quello che vi stavo dicendo non sono il vero io ossia allora chi il corpo assieme al suo spirito vitale il suo spirito vitale è l'anima animalesca c'è però dentro di me una parte autentica di Hashem già dal primo capitolo il Tanio ci dice che abbiamo due anime e la guerra che abbiamo dal giorno che nasciamo è perché ci sono due anime due forze che vogliono comandare che vogliono prendere il timone del nostro corpo in due parole o l'anima divina l'anima divina è composta da intelletto e attitudini l'anima animalesca è composta da attitudini e intelletto un altro giorno vi spiego perché ho invertito l'ordine in una parola è perché l'anima animalesca è tutta attitudini e usa il suo intelletto per poter raggiungere i suoi scopi invece l'anima divina è tutta intelletto e usa le sue attitudini per raggiungere i suoi scopi quindi da dove si parte è diverso quello che succede è che abbiamo una mente sola e un cuore solo quindi se l'anima divina viene invitata nella mente io penso divino se l'anima animalesca si fa spazio all'anima animalesca nella mia mente io penso animali tutto lì e tutto il giorno c'è questa guerra cosa penso come mi comporto quali sono le mie attitudini ho voglia di arrabbiarmi no non faccio entrare la rabbia nel mio cuore faccio entrare la luce nel mio cuore quella di arrabbiarmi quella che dava quello noi siamo figli di colui che dava senza distinzioni bastava pulirsi i piedi potevi entrare a casa e ricevere tutto il ben di Dio in mezzo al deserto quindi non dobbiamo mai dimenticarci riga due che c'è però dentro di me una parte autentica di Hashem che si trova anche nel più spreggevole degli spreggevoli tutto questo è già stato scritto l'autore del Tania si chiama colui che ha composto in base a quello che ha già trovato scusi posso chiedere una cosa un piacere un attimino che ti attivo l'audio e poi lo riattiverei eccoci no forse non ha visto che aveva alzato la mano magari lei non sta guardando non sta guardando il testo ah ecco a proposito siccome proprio lei adesso parla dell'argomento dell'anima diciamo così vitale dell'anima divina della scintilla vorrei un chiarimento avrei voluto chiederlo già prima ma non era mai arrivato il momento come questo perché seguendo delle lezioni di Tania da parte di due signore diverse hanno affermato che i non ebrei non hanno l'anima divina allora mi sono sempre riservata di chiedere a lei Raf Haddad se questa affermazione è vera cioè che l'anima divina la scintilla divina appartiene solo agli ebrei è diversa non è che non ce l'hanno perché questi signori hanno affermato assolutamente hanno un'anima vitale ma non hanno l'anima divina allora io mi chiedevo ma come se sono creature di Hashem come fanno ad avere un'anima divina però vabbè questa era una mia allora se mi puoi dire velocemente non voglio interrompere il suo discorso è una lezione è una lezione a sé in due parole questa famosa anima divina di cui noi parliamo è qualcosa che noi potremmo non avere mai anche se noi siamo figli di Avram e dovremmo essere facilitati in questo potremmo vivere una vita intera senza mai averla avuta senza mai averla assaggiata a meno che non sia successo qualcosa di di eclatante nella nostra vita un momento molto particolare quindi dobbiamo dedicare una lezione a questo perché abbiamo una facilitazione noi nel raggiungerla ma dobbiamo essere bravi ad averla perché quando una persona 24 ore su 24 è impegnato a servire il suo corpo e alla vita materiale dov'è l'anima divina non c'è mai stata no perché si parlava di scintilla divina che l'ebreo ha e che quindi deve tirare fuori no cioè passa la sua vita a cercare di sviluppare questa scintilla cosa che invece il non ebreo non ha il non ebreo la deve raggiungere in un modo un po' più noi siamo facilitati ok è un argomento a sé devo no no certo però però affermare che il non ebreo non ha perché nelle righe che stiamo leggendo c'è scritto proprio questo però affermare che un non ebreo non ha l'anima divina forse è un po' esagerato è un po' eccessivo come affermazione categorica come affermazione è eccessivo ok grazie è più complicato di quello che sembra va bene leggiamo riga 4 allora dice dice l'autore del Tania che ognuno di noi deve parlare a se stesso e ricordare a se stesso riga 2 che c'è però entro a me una parte autentica di Hashem che si trova anche nel più spreggevole degli spreggevoli ossia l'anima divina che ha in sé una scintilla della vera divinità e questa è una traduzione di versetti dei profeti molto belle però tradotto in italiano leggiamo così una scintilla della vera divinità la quale si è vestita di essa per darle vita che cosa sta dicendo sta dicendo che dentro l'anima divina c'è un'altra scintilla di anima divina avevo detto che non era semplice dovremmo dedicare delle lezioni per capire la struttura dell'anima è una cosa molto complessa però diciamo che sono lezioni fine a se stesse per sapere come è fatta l'anima ma non ci aiuta a servire meglio Hashem per quello che l'autore del Tania non si dilunga troppo in questo perché il Tania l'idea del Tania è quella di darci degli strumenti pratici e immediati per servire meglio Hashem quindi ci sono altri testi altri libri che si dedicano a capire che cosa vuol dire che dentro ognuno di noi c'è un'anima divina e dentro questa anima divina c'è una scintilla della vera divinità vuol dire una parte di Hashem che viaggia con noi la quale si è vestita dell'anima divina per dare vita all'anima divina che poi potrebbe dar vita a noi avevamo spiegato nel capitolo 29 che Ilela Zaken quando andava a mangiare diceva che andava a fare beneficenza con il suo corpo non so se ve lo ricordate mesi fa l'abbiamo studiato in che senso? nel senso che Ilela Zaken lui era l'anima divina e quindi il corpo era soltanto quello che accompagnava l'anima divina ma per poter accompagnare l'anima divina il corpo aveva bisogno della sua alimentazione come la macchina che ci accompagna da un posto all'altro ogni tanto dobbiamo fare la beneficenza con la macchina e dobbiamo metterci dentro 80 euro di benzina perché altrimenti non ci porta a destinazione e la stessa cosa diceva Ilela Zaken noi purtroppo noi ci sentiamo la macchina cioè abbiamo dimenticato da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare noi siamo la macchina e quindi vedi le domeniche la gente in fila all'autolavaggio stanno lì ore e hanno il prodotto per il vetro dentro il prodotto per il vetro fuori il prodotto per il volante il prodotto per il cerchio intorno al volante poi c'è il profumo quello estivo quello invernale e poi c'è questa plastica e poi c'è l'altra e poi c'è l'interno in pe e poi aprono il motore e iniziano a lavare il motore ogni pezzo si sono dimenticati perché hanno comprato la macchina la macchina è diventato il motivo della loro vita e ci hanno messo dentro un impianto stereo quando sono stato negli Stati Uniti la prima volta ho visto delle persone dentro una macchina che era talmente forte la musica che la macchina faceva così al semafo ero un ragazzo avevo 14 anni ho detto a mio fratello ma non mi fa male di testa mio fratello ha detto per avere male alla testa bisogna avere una testa ma quelli che si comportano così l'hanno dimenticata da qualche parte la testa quindi c'era dentro una musica che era una discoteca e loro erano tranquilli e felici noi fuori dovevamo tapparci le ore cosa succede che ci sono delle persone che hanno dimenticato da dove sono partiti dove devono arrivare Ilela Zaken non aveva dimenticato che la macchina è solo una macchina e ogni tanto va alimentata per poterci portare a destinazione ma noi purtroppo ci immedesimiamo nell'auto e dimentichiamo qual è il percorso che dobbiamo seguire ci dimentichiamo il motivo per il quale stiamo viaggiando ok infatti dice a riga 6 benché vi si trovi per così dire in esilio perché l'anima divina si trova in esilio perché è completamente soffocata e imprigionata dalle forze animali che vogliono prendere completamente il comando e il timone del nostro corpo il nostro corpo poverino non ha fatto niente è solo uno strumento senza volontà infatti quando l'anima le anime se ne vanno così dice anche Shlomo Ameler che l'anima animale torna dal basso da dove è arrivata e l'anima divina Tashuv Ela Elohim Asher Netanah tornerà ad Hashem che ha messo nel corpo l'anima divina ecco stiamo parlando di quelle persone che hanno meritato di poter tenere nel corpo l'anima divina qualcosa dentro di noi rimane sempre ma a volte è talmente talmente dicevo prima soffocata che il suo grido non si sente mai e questo è il grido dello Shofar che una volta all'anno noi dobbiamo liberare il grido dello Shofar è un grido senza parole è un grido che viene dal profondo del nostro cuore famosissima l'esempio del Bal Shem To che non vi racconto l'avrete già sentito ma il senso è che alla fine dentro dentro all'interno qualcosa c'è ed è purtroppo talmente talmente nascosto e messo sotto chiave che non riesce neanche ad esprimersi è per quello che siamo malinconici riga 7 proprio per questo quando più completamente sono separato da Shem sono lontano da Shem e quanto più sono disprezzabile e ripugnante quindi io più mi allontano da Shem e automaticamente mi chiamo ripugnante perché vuol dire che c'ho 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 meno di ieri e dell'altro ieri dentro di me e o più dentro di me e quindi dagli occhi di Shem sono ripugnante purtroppo è così tanto più profondo è l'esilio in cui si trova la mia anima divina quindi dalla prigione l'hanno messa nelle come si dice nelle sotto come si chiamavano quelle prigioni segrete segrete nelle segrete giusto e così da un livello a un livello più basso la mia anima divina e questa scintilla che si trova la scintilla di Shem che si trova dentro la mia anima divina va sempre più in basso e tanto maggiore pietà si deve avere di essa in altre parole l'autorità mi dice non ho pietà di me stesso a volte mi capita di avere pietà degli altri poverino io sto benissimo ma non è arrivato il momento di pensare forse io anche devo essere aiutato da me stesso devo fare l'elemosina a me stesso devo cercare di andare a cercare quella chiave e a tirare fuori poverino questo carcerato che non ha mai fatto nulla di male è stato condannato all'ergastolo come una persona innocente sapete ogni tanto sentiamo nelle notizie negli Stati Uniti in altri paesi dopo 30 anni dopo 35 anni è stato dichiarato innocente è stato liberato ci dà un sollievo a tutti noi poverino questo qui ha bruciato la sua vita ingiustamente perché ai tempi non c'era il test del DNA o ai tempi c'era un un testimone che poi dopo 30 anni è stato smascherato in quanto hanno scoperto che era una falsa testimonianza e lui però purtroppo ha bruciato la sua vita chi li pagherà di questi anni nessuno anche se gli danno un milione due milioni di dollari non penso che più di tanto possano dare ma nessuno li pagherà per questi anni questi anni che ha bruciato ed esattamente quello che succede dentro di noi ogni giorno è per quello che abbiamo pena di queste persone perché un pochino ci identifichiamo in loro quando succederà a me questa cosa che finalmente io potrò anche essere liberato potrò liberare l'innocente che si trova in prigione dentro di me sono parole un po' forti lo so e quindi dice l'autore del Tania in riga 11 e tanto maggiore pietà si deve avere di essa bisogna avere pietà bisogna avere forse un po' meno pietà degli assassini spietati e bisogna e bisogna capire che per loro la miglior soluzione è quella di essere messi sotto chiave ma le persone innocenti che sono sotto chiave veramente è una grande pietà e purtroppo il mondo è pieno riga 12 perciò tutto il mio scopo e la mia aspirazione deve essere di districarla e liberarla da questo esilio in altre parole dice metto dentro di me e raccolgo dentro di me tutte le forze possibili tutte le forze che ho per tirarla fuori da questo esilio per tirarla fuori da questa prigione per istituirla alla casa del suo padre come nella sua giovinezza dove c'è scritto nella Torah alla casa di suo padre e non mi ricordo veramente ma non riesco a ricordarmi in quale parte della Torah è scritta forse no non è quello il caso niente una curiosità non le che le fa no no non credo penso che sia nel comaggio forse nella parasha di ma non mi viene il versetto va bene comunque come dicevo tutto il Tanya è una composizione come un puzzle di versetti di Mishnadi di di Navi di Gmaradi Talmud di Kabbaladi di tutto noi stiamo stiamo viaggiando ogni riga da un posto all'altro ok riga 17 allora che era assorbita nella sua luce benedetta unita completamente a lui di che cosa stiamo parlando sta facendo riferimento all'anima prima di scendere in questo mondo quindi l'anima prima di scendere in questo mondo era completamente pura e pulita e illuminava ed era unita completamente con Hashem ma il motivo per il quale quest'anima viene portata qui e per poter illuminare qui con la stessa unità e con la stessa luce e con la stessa purezza che aveva lì giusto se noi abbiamo una scuola un'università di persone molto brave molto belle molto intelligenti che possono aiutare il mondo intero cosa facciamo le lasciamo lì diciamo no andate a illuminare il mondo ma sappiamo come va a finire che loro iniziano a conoscere il mondo e iniziano a scendere di livello e a sporcarsi e a offuscare le loro idee purtroppo è quello che succede in molti casi ma l'idea principale è quella di andate a illuminare questo mondo buio e freddo questo è quello che ha detto il e l'erebbe al presidente dello stato di israele nel 1967 si chiamava Shneor Zalman Shazar lo chiamavano Shazar è venuto negli Stati Uniti e è andato a visitare il Rebbe lì c'era tutta la politica contro come il presidente che va dal rabbino che deve andare dal presidente purtroppo c'è stata questa brutta cosa però si sono dimenticati che altre figure spirituali come ad esempio al Vaticano sono figure che sono abituate a ricevere i presidenti di tutti i paesi però ha dato loro fastidio negli anni 60 purtroppo era così il presidente dello stato di israele si è andato dal Rebbe quando è arrivato dal Rebbe era gennaio ed era mezzanotte e lui è entrato e ha detto Rebbe ma che freddo fa a New York lui era abituato in israele che il più freddo è 10 gradi allora Rebbe gli ha detto è per quello che Hashem manda le anime dai livelli più alti in questo mondo buio e freddo per illuminarlo e per scaldarlo questa frase avrebbe detto a il presidente dello stato di israele Shazam e questo è il lavoro questo è il nostro lavoro di ognuno di noi infatti dice a riga 17 l'orché era assorbita nella sua luce benedetta e unita completamente a lui Scusi scusi se la interrompo ancora e siccome io sono una che ama curiosare su google allora ho scritto la frase su internet e è venuto fuori kabab.org e quella frase di cui lei parlava nota 11 mi dice Levitico 22 13 certo abbiamo anche studiato le prime pagine nel Talmud che è proprio questo versetto lo sapevo che lo sapevo quindi la figlia del Kohen quando capiterà che diventerà vedova oppure divorzierà e non ha figli tornerà a casa di suo padre come quando era giovane e potrà mangiare il cibo dei Kohanim il cibo dei sacerdoti che era la Terumah mentre qualsiasi estraneo alla Keunah al sacerdozio c'è un divieto assoluto di alimentarsi con la Terumah la Terumah è la parte del nostro raccolto che si dava ai Kohanim ed era classificata Santa Kodesh soltanto i Kohanim che erano puri se un Kohen toccava un morto non poteva mangiare c'erano tante condizioni quindi quando la figlia di un Kohen andava a sposarsi con uno che non era Kohen non poteva più alimentarsi di Terumah ma se era vedova o divorziata tornava e quindi il Tanya prende queste parole e le dà la spiegazione quella più profonda e dice che stiamo parlando dell'anima che torna alla casa di suo padre come quando era in giovinezza e di nuovo potrà alimentarsi del cibo che poteva alimentarsi da ragazza quindi ricevere di nuovo questa luce fortissima di Hashem quindi ha dato la spiegazione più profonda a questo ma noi leggiamo il Tanya così come fosse un libro ma invece c'è una profondità infinita quindi insistevo a cercare di ricordarmi perché perché non riuscivo a ricordarmi dove era scritto questo mi scuso se magari sono andata a cercare ma non volevo siccome noi stiamo leggendo da un word che io ho riadattato dalla traduzione del 67 però non ho messo le note quindi c'è scritto 11 ma non non ce l'ho sul word quindi non avrei potuto andare a trovare ok riga 18 e ora essa sarà nuovamente assorbita da quella ok la parola da quella non riesco a capirla e ora essa sarà nuovamente assorbita e unita a lui così è scritto qua benedetto egli sia si sono un pochino mosse le parole se io indirizzerò tutti i miei sforzi che è quello che devo fare tutti i giorni quando mi sveglio indirizzare i miei sforzi verso la Torah di i suoi precetti come dicevamo dicevamo molto semplicemente che quando il bambino ha pianto dice perché Hashem non si rivela a me dice perché tu non hai fatto quello che ha fatto Avram Avino che cosa ha fatto Avram Avino riga 21 ha indirizzato tutti i suoi sforzi verso i precetti verso Hashem in modo sì da vestire di essi tutte le dieci facoltà dell'anima divina che cosa vuol dire vuol dire che nel mio corpo ho dieci contenitori e in questi dieci contenitori apro la porta all'anima divina che porta la sua energia alla sua luce a questi dieci contenitori e quindi e quindi io divento un'anima divina che cammina perché cammina? perché c'è il corpo fisico una persona non chiede che macchina è una persona chiede chi c'è dentro la macchina di chi è questa macchina quando chiedi che macchina è vuol dire che non ti interessa la persona che è padrone della macchina ti interessa solo la macchina e quello è il problema di oggi che importanza è che macchina vai a noleggiare un'auto perché devi andare a lavorare arrivi all'aeroporto vai all'autonolleggio e dici ok oggi ho questo modello qua no io non voglio questo modello voglio l'altro non ce l'ho e allora non vado a lavorare va bene non andare a lavorare esiste una persona talmente stupida che dice non vado a lavorare se non mi dai quel modello di macchina avrei preferito quel modello non c'è pazienza prendo questo l'importante è che mi porta a destinazione oggi purtroppo abbiamo talmente confuso le idee di tutti quanti iniziando da noi stessi che la priorità assoluta è il modello dell'auto se no non vado e quindi la priorità assoluta è che vestito mi metto se no non esco la priorità assoluta è che piacere troverò lì dove arrivo se no non vado ma se non sei qui per questo sei qui per essere un'anima divina che cammina come lo era avrà ma vino e quindi non entri con la polvere dei piedi a casa mia perché a casa mia c'è Hashem e c'è gioia 22 si da vestire le sue dice per la quotata dell'anima divina come menzionato in precedenza e da vestirle specialmente del precetto della preghiera qui l'autore del Tania arriva al punto in altre parole dice tutto questo riesci nella tefillah quando è che sono belle parole ma in pratica come le traduciamo come le materializziamo queste parole quando tu preghi metti un po' di sforzo e quando tu metti un po' di sforzo nella tefillah vedi che esce a galla la tua anima divina infatti il Benoni dice scusate l'autore del Tania dice che il Benoni durante la tefillah è come un tzaddik che non ha Yetzarara perché durante la tefillah nello sforzo che mettiamo riusciamo a far parlare l'anima divina che si trova in prigione nelle segrete più profonde questo è la tefillah la tefillah è quella di riuscire a portare a galla chi sono io veramente infatti nella Mishnah che è scritta l'unica Mishnah che abbiamo nel Sidur nella tefillah al mattino c'è scritto questi sono i precetti che sono talmente importanti che non che non solo che avrai una ricompensa quando arriverà il momento della ricompensa ma anche oggi giorno per giorno fisicamente avrai gli interessi di questa di questa Mishnah e uno di loro è Iyun tefillah pregare con Iyun Iyun significa con attenzione quando tu preghi con attenzione vuol dire metti i tuoi sforzi nella preghiera allora hai dato un motivo alla tua esistenza perché sei stato creato per quello sei stato creato per far parlare la tua anima divina in questo mondo questa università di ragazzi bravissimi preparatissimi che vanno in giro per il mondo nel momento in cui loro parlano con le persone è il motivo per il quale sono stati mandati dall'università invece di rimanere lì sono a miliardi di chilometri ma per parlare per far conoscere al mondo la luce e la bellezza di Hashem questo è quello che succede durante la tefillah durante la tefillah io sto tirando fuori e parlando e raccontando il motivo per il quale sono qua e la tefillah deve andare un pochino a dormire e quindi l'autorotentale dice sono bellissime parole ma come le materializzo nella tefillah quindi da vestirle specialmente del precetto della preghiera per piangere al cospetto di Hashem l'afflizione del suo esilio perché dopo la tefillah si ricomincia nel mio spregevole corpo e per ribelarla dalla sua prigione che essa possa unirsi sia lui sia egli benedetto mi fermo qua con la condivisione dello schermo perché oggi abbiamo veramente esagerato però come torno non vi vedo più non vi vedo più un attimino voi avete ancora la condivisione dello schermo? no si vede adesso non c'è più adesso non c'è più avevamo quasi finito il capitolo non me ne ero accorto ma lasciamo per le ultime righe per la per la prossima lezione 19.2 in questo momento non mi viene altro da dire se avete qualcosa da aggiungere siamo tutto orecchi io volevo chiedere una cosa ho dovuto interrompere a un certo punto per rientrare ma la prima parte quella della spiegazione della cosa non ti fa sentire ah scusami hai ragione perdon allora la prima la prima parte quella della polvere dei piedi bellissima veramente bella veramente sì una bella spiegazione però mi domanda allora allo stesso punto la stessa polvere quando arrivano da lot che significato non può avere lo stesso significato anche se lui gli dice prima entrate poi lavate perché lui non vorrà far credere agli abitanti che erano lì già da tanti invece no sono appena passati non c'entro niente però che spiegazione può avere non può avere la storia infatti 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 lot dice a loro non toglietevi la polvere dai piedi perché perché se sanno in giro che io vi sto ospitando qualche giorno mi metto in difficoltà sarò anche punibile con la morte perché a Sedome Amoraz si veniva puniti con la morte quando si dava ospitalità quindi la storia è completamente diversa loro sono venuti per camuffarsi come persone io non doveva pensare che fossero degli angeli ok quindi non c'entra niente no non c'entra proprio niente d'Avramavino il problema era che loro potevano entrare dall'Od con la polvere la stessa polvere che abbiamo spiegato d'Avramavino perché d'Avramavino c'era Hashem d'Avramavino era il Betamigdash e nel Betamigdash non entri con questa polvere nel senso vedendo che tu sei il padrone di tutto quello che hai dall'Od che era Sedona lì la presenza di Hashem non c'era proprio infatti Hashem ha deciso di capovolgere queste città di eliminarle di cancellarle completamente dalla faccia della terra fino a oggi non sono state ricostruite perché perché lì hanno fatto di tutto perché non ci sia la presenza di Hashem e quindi non cambiava niente sì polvere non polvere non cambiava niente ok grazie io avrei una domanda piccolina se posso certo con piacere e volevo sapere visto che il momento della tefillah è un momento di connessione puro con Hashem e visto che parliamo proprio di polvere di scarpe è un po' che mi balena tra la mente ma noi quando facciamo la tefillah non sarebbe meglio farle farla con le calze le donne cioè sempre senza le scarpe non scalzi ma appunto senza le scarpe il momento della tefillah o è una perché comunque nella l'alaha è scritto proprio il contrario è vero che non possiamo fare la tefillah a piedi nudi dobbiamo per forza avere i piedi coperti ma dalle calze o nudi sì infatti ma io intendevo per esempio se una donna porta le calze per sinute o naturalmente un uomo ha i calzini sotto le scarpe e le leva perché sa che entra e esce con queste scarpe ma in casa stiamo parlando sì sì in casa se uno fa la tefillah in casa sì la mi dà la domanda cos'è se le deve levare o le deve tenere o le ha già levate perché è in casa no la domanda è siccome io la faccio sempre con le scarpe invece stavo pensando stamattina ma non sarebbe meglio levarle visto che io ci esco con queste scarpe sono sporche esco fuori hanno la tumah e comunque ho le calze sì sono coperte le gambe ma non con le scarpe della tumah di fuori perché sto parlando proprio con Hashem sì ok allora è scritto chiaramente che quando Moshe Rabbeinu si è avvicinato al monte Hashem gli dice togli le scarpe e l'Allaha dice che quando andavamo nel Betta Migdash dovevamo togliere le scarpe perché la Torah dà una spiegazione a questa cosa perché il suolo che stai calpestando è un suolo sacro bene mentre a casa nostra dobbiamo fare la distinzione tra casa nostra e un luogo sacro il Betta Migdash casa nostra non è il Betta Migdash quindi se io tolgo le scarpe per fare la tefila senza scarpe sembrerebbe che io stia dicendo casa mia è un Betta Migdash e quindi diminuisco della Kedusha del Betta Migdash e non creo questa distinzione che è una distinzione importante che dobbiamo sempre ricordarci se io ho il Betta Migdash a casa mia non ho più bisogno di chiedere il Betta Migdash quindi dobbiamo mettere le scarpe per ricordarci che non siamo nel luogo sacro dove dovremmo essere e in quel luogo potremo e dovremo fare il servizio di Hashem senza le scarpe come di rispetto quindi benissimo grazie è stato chiarissimo intanto che il Betta Migdash non è ricostruito dobbiamo fare la tefila a come a come grazie a tutti